Benvenuto a Comestiverti ad Arterie Collegati all'internet come vuoi, pc, tablet o smartphone Vai sul sito www.arterie.org Leggi il regolamento con attenzione e gustati il nostro tutorial Compila la scheda in ogni sua parte, può aiutarti nella tua performance Non sbuffare ed inviacela Se hai dubbi, chiama il tuo responsabile di percorso o scrivimi un'e-mail E poi? Dai! Chi dorme non piglia pesci? Se vuoi, scriviti al tuo laboratorio oppure chiedi informazioni e l'accoglienza per dove soggiornare Ci vediamo a Cantaluco!